Una parola che secondo me ha una grande importanza, che è la responsabilità. Mi permetto di dirlo a voi che siete gente che scrive. L'altro giorno è uscito un articolo su un giornale che parlava di un fatto mafioso e che recava in prima pagina la foto mia e di Salvatore in scena. Allora la responsabilità è anche di chi scrive, la responsabilità è anche di chi amministra, la responsabilità è anche di chi insegna nelle scuole, la responsabilità è anche di chi parla in pubblico e magari fa una battuta perché è simpatico su una donna e quella battuta lì, quella volgarità lì rimane molto di più nel cervello rispetto al gioco, al gioco che fanno i bambini, i ragazzini rispetto a una serie scherzando tra di loro e dicendo, ti sparo, sta senza pensiere. Non è una fascinazione narrativa. Secondo me ci sono degli esempi negativi nella realtà di questo paese che dovrebbero far discutere molto di più della finzione che noi mettiamo in scena. Penso.